Il discorso della verità è un discorso che appunto lì per lì abbiamo trattato anche a lungo, ma dovevamo finire in senso conoscitivo, anche partendo dall'etimo originario che è sorprendentemente scelta, quindi ciò che noi chiamiamo verità deriva dal sanscrito che in realtà indica con quel termine scelta, volontà, e dunque scopriamo che la verità è qualcosa che comunque scegliamo di reputare tale e quindi ci siamo agganciati a questo discorso, credo piuttosto attuale, dello schierarsi a favore di una verità o dell'altra, convinti che gli altri dicano o credano soltanto in stupidaggini e noi invece si sia quelli che hanno in pugno la verità o viceversa, gli altri pensano lo stesso di noi e poi appunto c'è anche questo problema di identificarsi in un gruppo all'interno del quale ci saranno comunque delle sfumature, si spera, ma invece molto spesso si cerca di uniformarsi il più possibile perché la verità diventa un qualcosa di cui abbiamo bisogno per dimostrare che abbiamo ragione, che siamo dalla parte della ragione e dunque questa verità è tanto più forte quanto più siamo in tanti a condividerla. Allora quando ci si trova nelle piazze e si condivide una certa lotta, ci si sente forti nella ragione perché ci si guarda in faccia e si dice ah non sono il solito pirla da solo che a casa tutti prendono per scemo, la zia, il nonno, il marito, la moglie, i figli perché in realtà la pensano diversamente, ma siamo in tanti, comunque ci riuniamo, allora questo tipo di gruppo, di raggruppamento diventa qualcosa che tende a darci forza. però questo raggrupparsi, aggiungo, in realtà molto spesso è fuoco di paglia perché è la classica situazione di chi si riunisce appunto per sentirsi più forte, ma nel momento in cui poi arriva il problema, il pericolo, la polizia, ci si disperde tutti e ognuno pensa a proteggere se stesso. Il risultato è che il gruppo viene a mancare e tutto sommato rivela il suo essere nulla perché se non c'è prima una crescita individuale, ma si fa leva soltanto sul, come si chiama adesso, l'assembramento per poter considerarsi efficaci, in qualche maniera incisivi, allora ecco che però si corre il rischio di essere degli zero che sommati tra loro fanno comunque sempre zero. E questo è uno dei problemi del gruppo scelto come linea di lotta, ma che di fatto se non contiene e non riunisce individui che hanno però strutturato se stessi, hanno prima fatto un lavoro sulle proprie certezze, abbiamo parlato ieri di tante cose scomode come per esempio la priorità fondamentale di buttare giù tutto ciò in cui crediamo, in cui abbiamo creduto da decenni e decenni, buttarlo giù esercitando l'arte del dubbio su tutte le nostre convinzioni e buttando giù e rifiutando tutto quello che non ci trova disposti a considerarlo sicuro. Molte delle cose che noi abbiamo dentro, molte delle convinzioni che abbiamo maturato da decenni sono dovute semplicemente a un condizionamento della tradizione, della famiglia e allora barcollano queste verità, cioè nel senso che sono verità perché l'ha detto la mamma, la nonna, perché i miei bisnonni credevano in questo, perché abito in questo posto e la tradizione di questo posto dice questo, ma è chiaro che sono verità che nel momento in cui dovessero venire sottoposte a una pressione forte probabilmente crollerebbero, se non hanno un fondamento e il fondamento non può che essere riscoperto, nel caso in cui ci sia, a livello individuale, facendo proprio un lavoro di reset, radere al suolo tutto ciò che barcolla e poi provare a ricostruire un proprio sistema di principi, di valori, di convinzioni, questa volta finalmente sviluppate in maniera autonoma. L'aspetto dell'autonomia è fondamentale, è la finalità di un'educazione. L'educazione noi continuiamo a ritenerla finalizzata a una serie di cose, spesso addirittura a far orientare l'educando il giovane a determinate convinzioni che sono le nostre, questo è forse l'aspetto più grave, mentre invece ciò a cui essenzialmente l'educazione deve mirare è l'autonomia, l'indipendenza totale dell'individuo, la totale libertà. Quindi noi dobbiamo educare alla libertà. Educare l'autonomia vuol dire educare a far sì che ognuno di coloro che ricevono la nostra educazione, ognuno di loro si senta se stesso, trovi se stesso. E trovare se stesso vuol dire trovare la felicità, perché questo vuol dire, come abbiamo visto, e quindi il risultato è che l'educazione deve mirare alla felicità dell'educando, non al suo indottrinamento, non al suo adattamento, non alla sua formazione, che spesso significa plasmazione, quindi violenza. L'autonomia è fondamentale. Stavo rileggendo qui il bellissimo scritto di Kant sulla risposta alla domanda circa cosa sia l'illuminismo, e c'è quel famoso passo in cui lui dice pigrizia e viltà sono le cause per le quali tanta parte degli esseri umani, dopo che la natura li ha da lungo tempo liberati dall'altrui guida, rimangono tuttavia volentieri minorenni, a vita. E per questo riesce tanto facile ad altri erigersi a loro tutori. È così scomodo essere minorenni. Se ho un libro che ha intelletto per me, se ho un direttore spirituale, chiedo scusa, è così comodo essere minorenni, se ho un libro che ha intelletto per me, se ho un direttore spirituale che ha coscienza per me, se ho un medico che valuta la dieta per me, eccetera, non ho certo bisogno di sforzarmi da me. Non ho bisogno di pensare, purché io sia in grado di pagare, altri si assumeranno questa fastidiosa occupazione al mio posto. A far sì che la stragrande maggioranza degli esseri umani, e fra questi anche il gentil sesso, ritenga il passaggio allo stato di maggiorità, oltre che difficile e anche molto pericoloso, si preoccupano già quei tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l'alta sorveglianza su di loro. Cioè, non solo la questione è difficile di suo, ma poi ci sono i cosiddetti tutori che fanno di tutto per spaventarci, come dicevamo, e quindi per farci capire che abbiamo bisogno di loro, o meglio ancora se paghiamo, no? E quante volte una malattia affrontata nel senso più giusto riusciamo a controllarlo o a curarla da soli? perché uno degli aspetti più gravi della medicina ufficiale è, come sappiamo tutti, che si va a curare il sintomo senza occuparsi della causa, e la causa è sempre profonda, è sempre di natura interiore. Poi certo, se ti è caduto un sasso sulla testa, allora questa è una causa fisica, ma altrimenti il corpo assume la forma che la psiche gli dà. E nel momento in cui mi sento abbattuto, mi piego, perché il peso è forte, il peso sull'animo si trasferisce subito, sotto forma somatizzata di peso sul corpo. E io mi accorgo, dopo mesi in cui ho vissuto male il disagio del peso psicologico, che ho dolori alle spalle, e a quel punto vado dall'ortopedico al quale non sbatte assolutamente una mazza di niente del mio problema psicologico. Dici, ma questo non mi interessa. E mi dà degli antidolorifici magari, e mi distrugge l'esofago e lo stomaco. Oppure, insomma, tra l'altro è interessante notare che se c'è un collegamento tra la causa e l'effetto, converrà imparare a usare questo collegamento nei due sensi, che è un aspetto nuovo che non ho sentito spesso prendere in considerazione. E cioè che se una certa causa produce un effetto, per esempio una causa morale o psicologica, produce un effetto fisiologico, allora curando, soltanto curando l'effetto alla luce della causa, io senz'altro posso curarlo, cioè consapevole, no? Ma a quel punto è anche possibile curare la causa, partendo dall'effetto. Questo è interessante. Non soltanto partire dalla causa per capire che cos'è che l'ha prodotto e dunque curarlo alla luce della causa, ma provare a fare il percorso opposto. E partendo dal sintomo, visto, cioè visto in modo da avere sullo sfondo ben chiara la causa, provare a risalire, e spesso questo provoca che nel momento in cui mi prendo cura del sintomo, ma nella consapevolezza di quale sia stata la causa, curo anche la causa. E questo è interessante, non l'ho mai sentito dire molto. Cioè io arrivo anche curando il sintomo alla luce della causa a risollevare l'animo di una persona, non soltanto perché non ha più dolore, ma anche perché riesce a maturare meglio una comprensione di ciò che lo ha afflitto e quindi riesce a ritrovare una serenità. Ma tutto questo è un lavoro mio. Nessuno sa cosa ho vissuto. E quindi non posso che essere io a sapere esattamente. Una delle cose che io faccio spesso, se può servire nella mia ignoranza più totale, è che tutte le volte che ho un problema fisico cerco subito di capire di che cosa sia simbolo. perché il corpo mi sta parlando, mi sta dicendo qualche cosa che ha a che fare con un piano più alto o se volete più basso, più interiore, più interno. E mi sta dicendo c'è questo disagio e io te lo sto dimostrando fisicamente per il semplice fatto che io obbedisco alla tua interiorità, che io prendo la forma del tuo problema interiore, la prendo esteticamente, la prendo fisiologicamente. Perché quello che sei dentro e quello che sei fuori è la stessa cosa. Il cuore parla continuamente, ma noi impariamo poco per volta a silenziarlo e non è certo il cuore fisico. È il nostro animo, è la nostra parte più profonda. Ma guarda caso, nel momento in cui questo cuore viene zittito a lungo o si trova sotto pressione, da qui poi problemi di pressione, per un dolore o un problema spesso sentimentale, guarda caso, che viviamo a lungo, per esempio, ecco che poi il cuore diventa problematico anche a livello fisico. E quindi c'è veramente una sapienza infinita negli antichi e nella loro identificazione del singolo organo con un problema psicologico, il fegato, il coraggio, per esempio. Guardate che molto spesso, nel momento in cui ho un problema fisiologico, molto spesso il fatto di andare a, anche solo a cercare quali sono i detti antichi, i proverbi che coinvolgono quell'organo che è malato o che ha dei problemi, tu ti rendi conto, riesci a riscoprire qual è la causa profonda, il disagio. E però questo sottende, come al solito, una disponibilità alla riflessione, alla ricerca di sé, che non è assolutamente consigliata da quei tutori che ci stanno dicendo hai bisogno di me, e sì, puoi fare quello che vuoi. Io ho avuto un problema fisico che mi ha travagliato a lungo e che non sono riusciti in nessun modo a risolvere, anche quelli che erano assolutamente esperti in quel settore, finché io me ne sono preso cura cercando di capire quale fosse l'atteggiamento interiore che di fatto producesse questo sintomo. E un'altra cosa che ho imparato è che quando l'hai capito, non è come in psicanalisi che a quel punto hai la soluzione e la nevrosi passa. Ci vuole del tempo. Ma quello che ho veramente imparato è che quando una cosa migliora nel tempo, non so se mi spiego, e quindi necessita per migliorare di molto tempo, migliora però in maniera molto stabile e definitiva. Laddove il miglioramento veloce procurato da una sostanza chimica 90 su 100 lascia poi il posto al problema dopo poco o dopo tanto di nuovo. Perché la natura ha bisogno del suo tempo e forzare il tempo con un qualche cosa di chimico che acceleri poi di fatto produce altri problemi ma nemmeno la risoluzione effettiva di quello, di quello per cui noi eravamo, da cui eravamo afflitti. Siamo in un'epoca in cui, ecco, guardate, leggendo le cronache medievali che riguardano o i diari che riguardano determinati personaggi dell'epoca, a me ha sempre colpito come? Nel 400 per dire quando una persona stava male si mettesse a letto e stesse a letto due mesi, due mesi poi si alzava e era a posto, prendeva qualche erba, due mesi, due mesi. Tu vai dal tuo datore di lavoro e ti senti adesso mi metto a letto due mesi, sei licenziato subito e allora lo vedete che il capitalismo è strettamente connesso al tipo di medicina che si merita e che ci meritiamo e cioè una medicina istantanea, rapida, prendi l'auling all'epoca, prendi l'occhi, prendi una roba veloce perché tu non puoi tu non puoi esatto anche il termine tu non puoi permetterti lusso di lasciar passare del tempo perché devi tornare al lavoro esattamente tutto anche la scuola e sì e chi sta a fermo due mesi a letto che poi devi recuperare la linea se no non piaci più alla gente e anche la scuola la scuola che cosa serve se no per parcheggiare sti bambini perché tu devi andare al lavoro e non puoi certo permetterti di occuparti di loro passando il tempo e questo è un problema che abbiamo tutti anche quando lavori a casa come nel mio caso e non so come fare quando ho loro eccetera è un problema però chi lavora da solo può gestirsi le cose in maniera autonoma nel momento in cui tu dipendi da un datore di lavoro questo ti dice no ragazzo a scuola quando è morta mia madre mi hanno dato tre giorni di lutto in tre giorni di lutto non combini proprio niente ho passato mesi distrutto e non ero certo un mammone ma mi sono reso conto di quanto fosse importante e ho fatto una cosa interessante e anche costosa per me e cioè già dal funerale io me lo ricordo già dal rosario io mi ero chiuso io piangevo solo chiuso così non guardavo nessuno io continuavo a piangere come un cretino e chiuso mia sorella non ce la faceva mi invidiava quasi perché non riusciva a piangere io ero chiuso lì dentro proprio mi sono chiuso tutto così risultato evidentemente ho passato molto tempo così tornando anche a scuola così mi è venuta una periartrite fulminante tutto qua sono andato avanti anni che dall'epoca della fine novembre inizio dicembre partivano dei dolori bestiali infiltrazioni cortisone menate varie a un certo punto mi sono accorto che questo fare così questo chiudersi era un chiudersi psicologico non voler accettare questa cosa e che si traduceva in un chiudersi era proprio proprio non so come dire rattrappirsi infiammando tutto la gran parte dei nostri problemi produce contrazione contrazione muscolare stringo non voglio accettare questa contrazione infiamma tutto è terribile bisogna contrastare se sembra un medico non voglio per carità rientro subito nel personaggio ma comunque è invece il rilassamento e pian piano uno impara che quando comincia a contrarsi lì conviene e ti inventi il modo per rilassare e non hai bisogno più di andare da nessuno poi ripeto se hai un incidente stradale ci vai ma altrimenti questo medico che si erge a tutore c'è gente che ci vive dal medico appena ha un pelo che tira poi di fatto favorisce questa questo tutoraggio che poi di fatto è gestione monopolio monopolizzazione della nostra vita ma è anche perfettamente in sintonia con la mentalità capitalistica in virtù della quale noi siamo soltanto ingranaggi che devono assicurare il loro lavoro in una macchina che non può fermarsi un secondo e aggiungerei che questo aspetto del non potersi fermare è la nostra forza se volessimo quando qualche mese fa non mi ricordo più io ripeto tempo spazio ho qualche problema ma se calcolate che l'esistenza in quanto tale si radica sul tempo e sullo spazio significa che io ho seri problemi con l'esistenza in generale ma comunque nel momento in cui è venuto fuori quel problema vi ricorderete del down di facebook che per sette ore e mezza è andato fuori e non funzionava più no sette ore e mezza mezza giornata è andato fuori mezza giornata facebook non funzionava hanno perso sette cos'era il sette sette miliardi e mezzo di dollari per mezza giornata in cui non funzionava capite cosa vuol dire vuol dire che se noi o comunque quelli che dipendono da queste multinazionali decidessero tutti di fermarsi per mezza giornata mettiamo anche una tutti fallirebbero tutti sta bolla esploderebbe in un secondo se decidessimo di fare il sacrificio soprattutto chi è dipendente di fermarsi due giorni tutta questa storia finirebbe in due giorni andrebbero tutti in fallimento totale ma noi siamo stati spaventati da loro dicendo e che fai due giorni senza stipendio e poi le bollette e poi se io ti licenzio ok facciamo così tu licenziami però io intanto prima che mi licenzio faccio due giorni in cui ti blocco e lo faccio io lo fai tu lo fai tu non fanno in tempo non fanno in tempo a licenziarti muoiono di fame prima e questa è la verità muoiono prima falliscono chiudono ma ci vogliono i testicoli gli altri buti bisogna bisogna mettersi d'accordo e quanta gente invece non lo farebbe mai io mi ricordo a scuola quando c'era lo sciopero contro la cosiddetta buona scuola e il ratto di turno era sempre lì a scioperare contro la buona scuola e io dicevo agli altri che erano cosiddetti di sinistra ma tu non scioperi domani no ma perché se ti lamenti di questa scuola schifosa da anni perché oh io ho 70 euro ci tengo ho famiglia ma anch'io ma cosa c'entra ma facciamo un sacrificio è questo fatto di aver famiglia che è diventato il ricatto dominante quindi questa ricerca di verità che è finalizzata all'autonomia all'indipendenza all'indipendenza e quindi allo scavalcamento del tutore che è da sopra no è come il bambino che quando prova a camminare si trova la mamma che subito si aggrappa lo prende perché dice se no ti fai male così non camminerà mai e infatti Kant dopo dice a prezzo di qualche caduta se imparassimo alzarci dalla carrozzella e a camminare da soli ci faremmo un po' di sbucciature ma poi impareremo a camminare i bambini quando cominciano a camminare da soli una delle cose che sanno fare meglio non so se l'avete notato è cadere sono fantastiche sono dei professionisti della caduta io non so come facciano riescono sempre con le masi sono fantastici imparano a cadere è importante imparare a cadere è importante poi imparare a camminare tu coccolalo chiudilo proteggilo ovattalo e ne farai un imbecille che nel momento stesso in cui poi tu non ci sarai più sarà privo di qualsiasi autonomia e indipendenza e quindi sarà un nulla ecco l'educazione ha proprio questo ruolo quello dell'autonomia e del rendersi conto che l'educatore sparirà che non sarà eterno e che come tale quindi deve mettere l'educando nella condizione di fare a meno di lui il compito principale dell'educatore è sparire è proprio il nostro ruolo non continuare a no non esserci più vai come fa l'uccellino no quel piccolo viene sbattuto giù vola e piuttosto muori ma vola di fronte al rischio di morire te le inventi tutte e voli ecco quindi che poi abbiamo fatto tutto un discorso sulla verità e poi abbiamo ieri sera siamo arrivati alla questione della verità morale quindi di cosa sia bene cosa male e secondo me abbiamo toccato punti piuttosto forti sul su come orientarci rispetto alla scelta da fare quando si vuole agire bene o no in base a dei criteri che sono effettivamente scientifici cioè nel senso che alla fine non c'è dubbio su come un imperativo morale sia efficace in ogni situazione e volevo se non ci sono domande provare a procedere ancora sull'aspetto teoretico cioè del conoscitivo andando un pochino più a fondo rispetto a argomenti come quelli per esempio attuali della medicina della sperimentazione eccetera per capire perché per non farsi proprio troppo prendere in giro da chi ci tra virgolette informa e molto spesso ci deforma in realtà conviene essere preparati su anche solo la metodologia scientifica altrimenti non ci rendiamo conto che la metodologia scientifica cova parecchie lacune debolezze e quindi forse rendendocene conto possiamo anche essere critici come siamo ma in una maniera un po' più fondata è un po' più consapevole no? come si dice ora innanzitutto è importante questo e cioè come si arriva a una conoscenza scientifica di qualsiasi tipo ossia come si arriva a formulare una proposizione che sia in quanto scientifica universale necessaria cioè una proposizione che valga sempre per tutti perché se dico oggi piove questa è assolutamente una proposizione legata a una situazione di questo momento tra l'altro è falsa quindi ha un suo criterio valore di verità in questo senso falsa per esempio perché guardando uno vede che non sta piovendo ma per giunta è una proposizione che riguarda il momento stesso in cui io sto fotografando la situazione nel momento invece in cui io dico l'acqua bolle a 100 gradi io sto enunciando una legge nel senso che poi il problema è capire come si arriva a questa legge ed è questo il problema ma nel senso che noi siamo disposti assolutamente a essere certi che questo accada sempre ovunque ora per arrivare a una conoscenza scientifica e cioè una proposizione di questo tipo che valga sempre per tutti non possiamo che procedere attraverso due strade la strada dei sensi e la strada dell'intelletto siamo doppi noi abbiamo questi due strumenti conoscitivi i sensi che ci permettono di vedere ciò che abbiamo di fronte a noi vedere percepire sentire in tutti i sensi e poi abbiamo l'intelletto che ci permette invece di elaborare analizzare sviscerare i concetti che sono dei costrutti mentali presenti nella nostra mente collocati in determinate aree e in determinate zone neuronali contenuti mnestici inseriti dentro dei neuroni ben precisi collegati fra loro da degli archi neuronali che poi informaticamente vengono vengono resi con delle linee che collegano fra loro i vari concetti tutte le volte che impariamo qualcosa di nuovo produciamo un nuovo arco neuronale che collega ciò che sapevamo già a ciò che abbiamo appena imparato quando una persona ti dice non ho capito che cosa sia questo che ne so non ho capito che cosa sia cosa significa la parola cavallo il bambino inizio cavallo cos'è un cavallo tu che cosa fai tu gli rispondi spiegandoglielo e cioè agganciando questo nuovo termine che lui non conosce e di cui quindi non ha ancora significato con qualcosa che conosce già quindi gli dici è un animale e lui dice è un animale che però fa iiii nitrice ogni conoscenza umana procede in questi termini a qualsiasi livello per poter procedere nella nostra conoscenza dobbiamo agganciare il nuovo al vecchio a ciò che già sappiamo ok tu dici che cos'è uno scaburzo non lo so ma è una forma di casbucco vabbè a me non so cos'è lo casbucco e quindi allora in realtà nel momento in cui ti dico che questa cosa è comunque una sottospecie di quest'altra e quest'altra ti è nota tu tac piazzi un arco e dici eccolo là è un e lo collego è un ma altri archi con caratteristiche diverse che ne so la mucca è un mammifero ma a differenza del cavallo ha altri archi che ne so che fa muggisce o che ne so no allora ci sono una serie di proprietà che poi servono a migliorare approfondire la conoscenza di un certo concetto questo riguarda i concetti ma in realtà la via che normalmente ci permette di conoscere le novità è sempre quella dei sensi io tutto ciò che di nuovo scopro lo scopro attraverso i sensi e allora come faccio partendo dalla conoscenza sensibile del mondo ad arrivare ad una legge che valga per tutti visto che quello che osservo è sempre legato al singolo momento se io devo dimostrare la seguente legge scientifica ridicola ma tanto per spiegarlo simpaticamente dimostrare la legge scientifica secondo cui tutti i tacchini muoiono per poter dire che tutti i tacchini muoiono e siamo sicuri di questo ma il problema è che non sappiamo come mai ne siamo sicuri e fino a che punto ne siamo davvero sicuri adesso vi spiego perché ma per poter dimostrare che tutti i tacchini muoiono io che cosa faccio comincio a guardare un tacchino vedo lo seguo tutta la vita la sua vita a un certo punto schiatta e io scrivo uno poi perché devo dimostrare tutti poi il secondo il terzo il tacchino di mia nonna è morto quello di mia cugina è morto i miei tre sono morti tre, quattro, cinque a un certo punto mi rompo le palle perché non posso certo guardare e seguire la vita di tutti i tacchini del mondo e dell'universo perché muoio prima io è arrivato a un certo numero n dico dunque tutti i tacchini muoiono questo procedimento si chiama induzione e la matematica utilizza proprio il numero n che è un numero sufficientemente alto tale per cui ci autorizzi a passare dall'osservazione del numero n di fatti alla conclusione secondo cui tutti i fatti di quel tipo si comportano in quel modo ma signori questa cosa che è l'unica che sappiamo fare per conoscere la realtà non è assolutamente giustificata non si può in nessun modo pretendere di passare da un numero per quanto alto di casi che soddisfano la proprietà P alla totalità quindi dei casi che soddisfano la proprietà P questo è un questa è una leggerezza su cui si fonda ogni metodo scientifico sperimentale non so se è chiaro questo aspetto va assolutamente preso in considerazione perché inficia tutto questo fede che altro a questo punto non può essere nella scienza perché la scienza che cosa fa? osserva Galilei che cosa fa? ricostruisce in laboratorio un fenomeno che vuole studiare e già questo è un problema perché se tu ricostruisci in laboratorio quel fenomeno che trovi in natura che ne so la caduta dei gravi il piano inclinato e misuri però che cosa fai? isoli quel fenomeno da tutti gli altri fenomeni in cui questo si trova immerso e così facendo tu lo fai perché vuoi studiare solo quello e quindi togli tutti gli altri aspetti che potrebbero interferire con quel fenomeno per esempio la caduta di un corpo su un piano inclinato ma nel momento in cui hai studiato e hai capito perfettamente come un corpo cade ti rendi conto che non hai capito una mazza perché poi comunque una mela nel bosco cadrà in maniera molto diversa in relazione anche al secevento all'asperità del terreno alle buche all'attrito al fatto che un castoro passa e se la mangia e a tutto il resto cioè noi cerchiamo di crediamo di poter conoscere le cose ma già ricostruirle in laboratorio per conoscerle significa non conoscerle se poi indipendentemente dal fatto che ricostruiamo o cerchiamo di averne esperienza diretta comunque ci affidiamo all'unica possibilità che abbiamo cioè l'induzione e cioè dire allora questa mele è caduta con questo tipo di che ne so velocità eccetera ok quest'altra di nuovo sì la velocità della stessa il ghepardo corre a 170 km all'ora dico ok misuro i vari ghepardi che corrono mi metto lì faccio una media ne misuro 500 5.000 5.000 ghepardi poi dico basta corrono tutti così ma che ne so io che in qualche zona nascosta dell'India ci sia un ghepardo che fa i 5.000 orari no quando dico tutti i tacchini muoiono perché io ho avuto contezza di casi numero 5.700 sono morti tutti che ne so che nella stessa grotta in cui hanno trovato Bin Laden nascosto nelle profondità del terreno ci sia un tacchino di 75.327 anni che vive o vegeto tromba come un ermellino e nessuno lo vedrà mai morire è certo che questo è un discorso per assurdo ma è così che funziona la sperimentazione medica per esempio questo vaccino intanto devi prenderti un tempo per sperimentarlo non sei mesi quindi in questo caso ma io dicevo questo vaccino nel senso questo in generale questo vaccino qui ma quello di cui vogliamo parlare contro il covid ha maggior ragione non ha avuto neanche i tempi della sperimentazione quindi non è stato sperimentato ma ammettiamo pure che io mi prenda tutti i tempi e che loro non abbiano potuto farlo con questo perché è urgenza quello che vuole ma ti prendi i tempi che normalmente sono di 5 anni e a volte si va anche a 10 anni altro che 6 mesi e in questo tempo tu somministri a quei poveri diavoli che ci vengono lì a farsi pagare a farsi somministrare questo farmaco questo vaccino questo farmaco non importa diciamo un numero normalmente funziona su 5.000 casi e tu veda che su 5.000 casi ha funzionato per 4.980 dico così hai dei parametri che ti dicono beh 4.980 è una percentuale su 5.000 piuttosto alta molto alta quindi soddisfacente ma intanto ci sono quegli sfigati 20 che sono schiattati magari e quindi dire questo farmaco lo mettiamo in commercio perché vale per tutti i casi significa che quei 20 te li sei fregato e li hai lasciati schiattare e poi c'è il fatto che ne hai provati solo 5.000 ecco che poi nel Burgiardino scopri che in Cina c'è stato un caso di uno che invece appena l'ha preso è diventato verde e poi è esploso e uno dice vabbè ma che mi frega di quello lì non fa statistica e se poi questa cosa si moltiplica e se poi ci sono tutti gli aspetti diciamo degli effetti collaterali a distanza di anni o di decenni e chi va più a guardare a collegare e tu sei malatissimo e chi si prende la briga di dirti forse perché dieci anni fa ti sei vaccinato ma va su ecco allora attenzione io non volevo fare esplicitamente specificatamente la polemica sulla questione vaccino volevo dire che qualsiasi farmaco ma in generale qualsiasi legge della scienza che riguardi il mondo si basa sull'induzione l'induzione è il passaggio razionale da un'osservazione empirica di fatti concreti in un numero sufficientemente alto ok che quindi soddisfano una certa proprietà a una legge universale che come tale vale per tutti i casi ma questo passaggio come per esempio Hume ma già gli scettici tre secoli prima di Cristo sottolineavano questo passaggio dal molti ai tutti è assolutamente illegittimo infondato punto e siccome la scienza non ha di meglio che fondarsi la scienza moderna soprattutto da gallina in avanti su questo metodo la scienza è fortemente a rischio di non essere funzionante un esempio eclatante è quello di come veniva spiegata la caduta dei gravi al tempo di Aristotele poi ripresa da Ptolomeo questo sistema aristotelico tolemaico legato alla questione ma ripresa da Ptolomeo ma poi in realtà arrivato fino a Galilei quindi fino al 600 come si spiegava la caduta dei gravi con quello che era con quella che era la teoria dei luoghi naturali e cioè si credeva all'epoca che la terra fosse composta da quattro elementi che sono le quattro radici di Empedocle cioè i quattro elementi sono quattro elementi primordiali acqua aria terra e fuoco che poi sono stati riproposti nell'astrologia eccetera allora la terra era considerata un pianeta che aveva all'interno di sé nel nucleo più profondo un centro un nucleo centrale di terra propriamente detta quindi terra non con la T maiuscola ma minuscola cioè la terra nel senso della pietra e di ciò su cui noi appoggiamo i nostri piedi camminando questo nucleo centrale rivestito da una sfera quindi una sfera nucleare di terra una sfera che l'avvolgeva concentrica di acqua un'altra sfera concentrica che avvolgeva le due precedenti dentro di sé di aria e infine un'ultima sfera sempre concentrica di fuoco terra acqua aria fuoco questa è la terra pianeta i corpi celesti perfetti dorati meravigliosi divini erano invece considerati di etere cioè di una sostanza eterna incorruttibile divina quindi la luna il sole tutto perfetto tant'è che Galilei mette in discussione proprio questo dice ma io ci vedo delle macchie nella luna dove sta perfezione queste sono ste macchie ma fino a quel momento e infatti fino a quell'epoca gli antichi dicevano le macchie sono solo l'ombra di altri corpi celesti ma di per sé la luna il sole sono perfetti e allora cosa succede che però noi che siamo in perfezione perché noi invece siamo fatti di materia corruttibile terra acqua aria e fuoco abbiamo un problema che ogni cosa è composta di questo non solo il nostro pianeta ma ogni cosa è composta di questo l'acqua è composta d'acqua logicamente i liquidi di qualsiasi tipo sono comunque a base soprattutto di acqua i corpi solidi sono soprattutto a base di terra i corpi caldi hanno una forte componente di fuoco e via di seguito e queste quattro radici si intrecciano si mescolano in diverse proporzioni dando vita o comunque realizzando tutto ciò che esiste bene la la cosa che è fatta di una materia preponderante segue quello che è il destino di quella stessa materia a livello originario cioè la pietra che è fatta di terra ok terra cristallizzata se la lascio cadere si precipita giù con una traiettoria lineare perché torna la terra terra torna a terra anche nel momento in cui io lascio cadere la pietra sull'acqua la pietra attraversa tutta l'acqua e va a cadere nel fondo marino perché trova cerca e trova la terra c'è qualche c'è quasi un desiderio un anelito all'interno di tutto ciò che esiste di tornare al proprio elemento originario l'aria nell'acqua la bolla d'aria torna su perché la sfera dell'aria è sopra quella dell'acqua un fuoco acceso sulla terra tende verso l'altro con le sue fiamme perché vuole arrivare e raggiungere la sfera del fuoco che è la più alta di tutte signori tutto era perfettamente spiegato da questo sistema è stato considerato giusto per 2000 anni 1900 anni perché reggeva perfettamente poi qualcuno ha cominciato a introdurre da Newton in poi la legge di gravità e tutta questa storia dei luoghi naturali è crollata ma aveva funzionato alla perfezione è stata insegnata come la verità a giovani a ragazzi a bambini per 2000 anni e non c'era nessuna eccezione perché tutto funzionava perfettamente la pioggia cade perché torna l'acqua cioè tutto doveva essere spiegabile in questi termini tutto poteva essere spiegato in questi termini peccato che fosse falso almeno secondo quello che è quella che oggi noi consideriamo la verità che già sta mettendo essendo messa in discussione anche essa perché già la legge di gravità c'è chi comincia a discuterne e a considerarla allora ecco che la scienza in realtà cosa ha fatto in quel contesto si è guardata intorno ha visto che la pietra va così è vero che la pietra se la tiri non cade finisce nell'occhio a qualcuno ma dice Aristotele esercita una traiettoria orizzontale finché può poi non ce la fa più perché deve tornare a casa sua e quindi comincia a inclinare e va giù è una questione d'amore la fisica aristotelica è una questione d'amore cioè io devo tornare all'origine è fantastico però spiega perfettamente tutto in una scienza che era come vedete una scienza molto diversa dalla nostra perché non era una scienza quantitativa era una scienza qualitativa che badava l'essenza delle cose diceva questa cosa l'essenza di questa cosa è soprattutto solida quindi tornerà al solido tornerà alla terra questa scienza essenzialista muore con Galilei e con la nuova scienza che è quella invece che descrive quantitativamente un fenomeno la scienza attuale non si chiede la qualità dei fenomeni se ne chiede la quantità è raro che anzi direi impossibile che su un libro di scienze ci sia scritto il castore è un gran bel animaletto ma c'è scritto semmai il castore corre a x fa n figli a le unghie lunghe 3 cm cioè così numeri perché su quelli a quelli ci affidiamo con molta tranquillità ci danno sicurezza nonostante siano come abbiamo visto ieri assolutamente zero e che è anche esso un numero anche se prima non lo era e cioè non abbiano nessuna valenza reale i numeri ma siano soltanto costrutti nella nostra mente assolutamente così come assolutamente e così come sono gli elementi di cui parlava e che utilizzava Teofrasto Paracelso nell'alchimia rinascimentale quindi in realtà e questi non è che si possa dire che erano degli idioti perché producevano degli effetti se voi leggete Giordano Bruno concedetemi questa divagazione rispetto a determinati libri in cui lui spiega il modo con cui si può influire sui fenomeni ma lui dice delle cose e le dice con una tale naturalezza nel senso che non si stupisce né crede di stupire nessuno dicendo che avendo i capelli di una persona se la distanza avendo un capello di una persona se la distanza non è relativamente troppo elevata tu attraverso quel capello riesci a influire sulla sua vita a modificarne gli atti eccetera ma lo dice come per dire sappiamo tutti che lo facciamo ogni giorno e noi adesso sentiamo cose del genere diciamo che roba è ma siamo pazzi e lui è uno per esempio assolutamente contro la magia nera ma mica perché dice che non esiste perché dice che è immorale ma dopodiché la magia bianca cioè la capacità di esercitare influsso positivo sui fenomeni il cervello ce l'ha assolutamente nella piena disponibilità è solo che più noi deleghiamo macchine a fare quello che facevamo prima con la testa pensate al computer pensate che io non so neanche uno non sa neanche qual è il suo numero di telefono perché lo sa il computer perché lo sa l'agenda perché lo sa il cellulare uno non sa più neanche qual è il compleanno di suo figlio perché suona il cellulare e gli dice è il compleanno di tuo figlio presto non saprà neanche chi è suo figlio perché ce l'avrà dentro il cellulare esatto questo è il mio allora è chiaro che in situazioni di questo genere più deleghiamo e più noi perdiamo facoltà poteri non so come definirlo la nostra intelligenza si rattrappisce sempre di più pensate a quanto poco ormai funzioni la nostra memoria perché è già tutto memorizzato lì dentro e quindi non devo più ricordare l'intuito è zero zero perché l'intuito è qualcosa che ci riconduce alla natura e agli animali l'istinto l'istinto è morto anzi parlare di istinto uno scienziato ti guarda come dire cioè vogliamo però parlare di cose scientifiche ok allora parliamo di cose scientifiche che vuol dire che tu mi stai dando una medicina dando per scontato che varrà per tutti nonostante tu abbia provato su quattro poveri diavoli il mondo si è composto da otto miliardi di persone tutte diverse l'omeopata ricostruisce la cura sulla base di chi sei tu non solo delle intolleranze fisiche delle difficoltà ma anche del tuo vissuto è il vero medico è il medico che è il medico che che sa tutto di te mi viene in mente mi stava venendo in mente nell'antico Egitto il medico che fa un po' schifo ma annusava le feci o assaggiava le urine e ti diceva se era maschio o femmina o ti diceva che malattia avevi e ti trappanavano il cranio a quel punto perché non avevano bisogno dell'ecografia avevano capito che avevi il tumore al cervello e andavano e trappanavano e lo facevano proprio col trapano così ora voglio dire dove l'abbiamo perduta sta roba che cosa alla fine che cosa ha di non voglio sminuire troppo ma che cosa ha di meglio e di più 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 sapiente di me il tipo che mi fa l'ecografia ai polmoni e che lo fa semplicemente perché sa usare una macchina schiaccia qua è la macchina che guarda non è lui lui sa solo dove schiacciare allora uno dice senti se avessi soldi a sufficienza per comprarmi sta cazzo di macchina mi trovo qualcuno che mi spiega come schiacciare i pulsanti me la porto a casa e ho finito perché io in quattro in quattro ecografie mi sono ripagato la macchina se va avanti così soprattutto con la privatizzazione della sanità che si sta inscenando quindi di fatto siamo sempre più dipendenti da macchine che di fatto prenderanno sopravvento lo stanno già prendendo lo prendono anche solo nei termini quando si dice che dobbiamo monitorare stiamo dicendo che noi siamo il monitor delle cose cioè che noi usiamo un termine che dovremmo usare per una macchina lo usiamo per noi stessi ci stiamo asservendo al linguaggio della macchina e quindi stiamo perdendo la nostra umanità ma siamo contentissimi siamo proprio soddisfatti di questo ti parlano del fatto che ti puoi staccare un pezzo e metterne un altro ti stacchi il naso metti un naso nuovo fai è un discorso che affronto nell'ultimo romanzo il giudice questo fatto è addirittura il backup dell'anima io tiro fuori in questo romanzo uno dice due figli un nuovo oggetto un nuovo corpo sintetico trasferisco l'anima ma lui è perfetto tu sei pieno di tumore butto via perché io ho fatto il backup e adesso l'anima ce l'hai nell'altro e sei tu quindi ma è un corpo garantito cent'anni solo che costa un sacco di soldi a meno che tu non accetti i cookies perché in quel caso te lo do gratis però c'hai suggerimenti dentro sulla spesa sul voto elettorale di questo parla sto romanzo ecco allora il discorso qual è che in realtà noi abbiamo perduto questo potere che non era altro che un controllo sulla nostra sulla nostra giurisdizione sul nostro territorio sulla nostra famiglia sul nostro corpo eccetera convinti che sia molto più affidabile scientifico la macchina ma quello che soprattutto conta dal punto di vista metodologico è che la certezza scientifica che raggiunge uno scienziato come ho cercato di spiegarvi è estremamente debole e quindi nel momento in cui vanno a dire in tv che la scienza ha sempre ragione convincono i pirla che non sanno come la scienza procede ma non convincono me perché so benissimo qual è la metodologia e c'è un fiorfiore di dibattito all'interno delle facoltà a contatto tra filosofia e medicina sulla questione etica e sulla questione epistemologica sentire un medico ma ne ho sentiti tanti che mi dice che lui ha una grande preparazione chirurgica a livello chirurgico ma non ha mai fatto neanche un'ora di etica medica e quindi non si rende nemmeno conto di quanto sia etico operare o non operare in certe situazioni e addirittura chiede un consiglio a te quando basterebbe accendere se stesso e farsi delle domande ma non è più abituato è una situazione gravissima vuol dire che questi qui operano e vanno e nel momento in cui c'è da cambiare la testa cambia la testa e c'è il problema che quella persona con un trappianto di cranio o di cervello è la stessa per esempio ci rendiamo conto su cosa andiamo a operare no è tutto intercambiabile abbiamo detto eh abbiamo detto che siamo corpo e anima il corpo è quello che sovrintende alla conoscenza induttiva cioè come abbiamo visto a partire dall'osservazione di fatti concreti collezionandone un tot si arriva ad indurre non dedurre poi questo è un errore spesso si dice da quello che ho visto deduco no la deduzione è proprio l'opposto e lo vediamo adesso dovremmo sempre dire da quello che ho visto induco che cioè da n casi particolari induco cioè trago una legge universale x y z tutti e qui c'è un salto illegittimo illegittimo ma rendiamoci conto inaggirabile perché per poter dire che vale per tutti io dovrei sperimentarlo su tutti a quel punto non sarebbe una sperimentazione sarebbe una nel caso del vaccino inoculazione globale e poi per scoprire che muoiono tutti e che sperimento ho fatto quindi lo fai proprio lo sperimento di per sé su pochi ma un pochi sufficientemente non troppo pochi da poter dire ok allora mi incoraggia questo dato ma il fatto che il dato ti incoraggi non implica che è vero implica che nel caso è vero per quelli ma non che quindi è vero anche per gli altri che non ne sanno niente che non hai sondato non so se è chiaro l'altro aspetto conoscitivo quello che si usava soprattutto nell'antichità è quello deduttivo cioè non partire dai fatti e arrivare a una legge concettuale teorica ma partire dai concetti e aprirli come fossero dei pacchetti regalo allora dire che tutti i tacchini muoiono lo posso dimostrare induttivamente seguendo i tacchini e depennando tutti i tacchini che via via muoiono arrivo a n che non si sa mai cos'è ma un numero sufficientemente grande da poter dire quindi tutti e questa è induzione questo è accaduto usando i sensi osservando misurando eccetera ma per poter dimostrare che tutti i tacchini muoiono si può anche usare la deduzione e la deduzione sta nel aprire il concetto di tacchino quindi la deduzione è un procedimento che si può operare a occhi chiusi in una stanza buia soltanto riflettendo non servono più i sensi è il cervello che lavora su di sé che lavora sui suoi costrutti va a recuperare il concetto di tacchino e aprirlo in questo caso vuol dire tacchino è un animale perché se apro il concetto di tacchino dentro il concetto di tacchino è implicito il concetto di animale nel senso che non si dà un tacchino che non sia un animale nel senso che nel momento in cui uno ti dovesse dire sai che ieri ho visto un tacchino con le foglie oppure ho visto un tacchino che era in realtà una pianta e faceva i fiori tu dici guarda non era un tacchino te lo giuro per il fatto che la definizione stessa di tacchino implica il suo essere animale non so se capite siamo a un livello diverso di certezza non la certezza di osservare ma la certezza di analizzare un concetto e trovarci la sorpresa dentro che però essendo dentro è essenziale se tu mi dici che hai visto un tacchino di che colori sono i tacchini neri marroni marroni bianchi ecco se io dico ho visto un tacchino bianco bronzo quello che è io posso dire ci sta era bianco perché se ho visto un tacchino viola comincio già a dire forse o era malato forse non era un tacchino perché non è implicito tu elencando i colori mi stai dicendo quali che sono i colori essenziali per i tacchini un tacchino rosa comincia a essere il rischio che sia un fenicottero mascherato da tacchino però il discorso è che quindi aprendo un concetto io vedo cosa c'è dentro dentro il concetto di tacchino c'è la sorpresa dell'animale ma io posso fare anche oltre apro animale e dentro animale mi chiedo che cos'è un animale è un essere vivente e dentro dentro tacchino animale dentro animale essere vivente per la proprietà transitiva se il tacchino è un animale e l'animale è un essere vivente il tacchino è un essere vivente ma se il tacchino è un essere vivente come tale muore perché tutti il concetto stesso di essere vivente è che in quanto vivente non può che a un certo punto morire allora io deduco che il tacchino muoia sulla base dell'analisi del concetto quindi se io se mi dicono tieni un bicchiere d'acqua asciutta mi dicono guarda se è acqua non può essere asciutta acqua secca no non funziona ma se mi dicono prendi questo bicchiere d'acqua perché fa bene ai reni guardate non è implicito nel concetto di acqua il far bene ai reni non c'è se lo apro è che io ho sperimentato ho provato a dare l'acqua a un sacco di gente che aveva problemi renali e ho visto che funzionava meglio non so se mi spiego allora in un caso è deduzione io tiro fuori e quello che non è dentro dico no non funziona ciò che non è essenziale non è una legge interiore al concetto stesso ma nel momento in cui invece ti dico che l'asfalto ha la proprietà di curare la fibrosi cistica perché l'ho provato a somministrarlo a mia sorella che ce l'aveva quella diventa induzione e quello vuol dire che l'hai provato su n casi e sei arrivato a una legge universale quindi deduzione è trarre fuori da un concetto aprindolo a quello che c'è implicito dentro è una forma di conoscenza che si usava soprattutto nell'antichità non si usa più per un motivo molto semplice si usa nella vita di tutti i giorni per esempio l'investigatore che arriva sulla scena del delitto nel momento in cui nota che c'è una cicca di sigaretta con del rossetto sopra induce che c'è stata una donna lì induce oppure uno che si mette il rossetto ma comunque vabbè ormai non c'è più questa ma per dire trae da un aspetto esteriore percepito attraverso i sensi una conoscenza nuova nuova un 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 lo stesso ispettore lo stesso investigatore che viene a sapere che X nel momento stesso allora del delitto si trovava da sua nonna ok in quel caso induttivamente ha saputo che era da sua nonna ma deduce che quindi non può essere stato lui perché non poteva essere contemporaneamente in due posti perché è assolutamente non implicito nel concetto di esistenza all'interno di un uno spazio tempo e allora ecco che usa la deduzione per arrivare a certe caratteri a certe conseguenze a certe scoperte sulla base dell'analisi di un concetto e usa l'induzione sulla base dell'analisi di quello che si trova davanti ecco in questo caso usiamo un po' il cervello e usiamo un po' i sensi e questo lo facciamo nella vita di tutti i giorni per cercare di capire cosa è successo al vicino o perché lui sta male una serie di problemi o di cose ma la scienza ufficiale quella di oggi quella moderna e cioè quella galileiana si avvale quasi esclusivamente direi dell'induzione cioè dell'osservazione dei fatti da cui induce una legge universale necessaria e questo è il cuore del problema questa è l'essenziale debolezza della scienza moderna e contemporanea cioè il fatto che da un numero n di casi per quanto alto non si possa mai essere certi circa la possibilità di prevedere come andrà per tutti i casi ulteriori non sondati non verificati dai sensi è chiaro questo ditemi se ci sono ora a questo aspetto del far riferimento ai sensi o del far riferimento all'analisi dei concetti fanno capo due forme diverse di approccio filosofico alla conoscenza si chiama empirismo l'approccio filosofico conoscitivo che si fonda su quello che si vede e si percepisce dire io sono un empirista significa dire io mi baso su quello che vedo San Tommaso che mette le mani nel costato e dice allora adesso credo finché non tocco finché non vedo non credo con tutto ciò che comporta oggi questo aspetto perché attenzione siamo in un'epoca in cui per vedere cosa è successo usiamo il cellulare o il monitor questo significa che in un'epoca in cui ormai siamo a un livello di perfezione della grafica tale per cui ti fanno vedere quello che non c'è guardate quante volte i conduttori televisivi prendono la cantonata di far vedere una scena di guerra che in realtà era un videogioco in un'epoca in cui la grafica è arrivata a un livello tale per cui produce un nuovo mondo dentro il computer cioè nel computer c'è un mondo alternativo a quello vero e tu non capisci più qual è il vero e non vero perché il reporter ti dice guardate cosa sta succedendo e tu lo vedi ma è dentro questa scatola e potrebbe essere assolutamente realizzato in maniera posticcia no? finta capire cosa sia vero o no diventa veramente problematico però l'empirista comunque si basa sui sensi meglio se hanno a che fare con la realtà vera ma poi vedremo che anche questo non è detto che sia una sicurezza che non sulla realtà a cristalli liquidi il razionalista è invece colui che si fida non tanto dei sensi perché teme che possano anche essere vittima di illusioni percettive quando ti fai di qualche sostanza o quando bevi troppo vedi o senti cose che non ci sono per esempio e se spruzzano qualcosa nell'aria oppure semplicemente si vive in una dimensione in cui ci si sente in qualche maniera o non ci si sente ma si è in qualche maniera allucinati vediamo percepiamo cose che non allora non fidandosi dell'aspetto percettivo il colui che invece si fida del ragionamento e quindi si chiude in camera e chiude la spegne la luce chiude gli occhi e ragiona sui suoi concetti è un razionalista empirista si basa sui sensi e sui fatti percepiti razionalista si basa sul ragionamento e diffida della dell'efficacia dei sensi a queste due a questi due approcci filosofici e conoscitivi corrispondono due approcci psicologici gli empiristi in psicologia sono i comportamentisti behavioristi sono quelli che per conoscere un individuo ma anche per curarlo si basano su quello che vedono sul comportamento esteriore ti dicono che tu hai quella tale incertezza perché ti metti così piuttosto che colà oppure curano il tossicodipendente non andando tanto a analizzare il profondo il vissuto quello che sente ma in realtà correggendone il comportamento per esempio tu ti fai di eroina con chi ti fai con questo gruppo dove vi trovate lì allora d'orino avanti tu non frequenti più questa gente non vai più lì cascasse il mondo cambi giro cambi vita cambi quartiere cambi mondo allora oppure il muccioli che addirittura li incatenava ecco il cacchio che questi si drogavano non potevano correggi anche in modo violento in questo caso il comportamento ma a un certo punto la sua fazione perde forza fino a che non senti più il bisogno questo non è molto psicologico legare la gente è un pochino più terroristico ma comunque per dire si agisce sul comportamento dall'altra parte ci sono i cognitivisti in psicologia che sono quelli che invece corrispondono ai razionalisti in filosofia cioè che cercano di studiare la mente i processi della mente e curare in base a quello che la mente produce o gli atteggiamenti mentali sbagliati e cose del genere e quindi non si va tanto a vedere come ti comporti esteriormente ma che cosa hai dentro cosa pensi e una di queste declinazioni è quella della psicanalisi e della della esternazione da parte del soggetto delle sue paure dei suoi problemi dei suoi sogni che sono fortemente simbolici e secondo Freud parlano è l'inconscio attraverso il sogno che parla al soggetto e gli sta dicendo guarda che tu hai questi problemi e io te li dico chiaramente ma interviene quel famoso superio che è in soldoni la coscienza ma è questo censore che non vuole far soffrire il soggetto troppo e quindi corregge subito il sogno e lo rende e lo rende incomprensibile assurdo solo per evitare troppi dispiaceri dove se il soggetto svegliarsi e trovarsi al cospetto chiaro di quello che ha sognato e scoprire che magari è stato violentata a tre anni dal padre o cose del genere allora tutta una serie di cose di correzioni Freud analizza tutti i vari meccanismi correttivi affascinante anche questo aspetto della filosofia della psicologia freudiana attraverso cui superio in qualche modo cerca di darci ragione darci un aiuto cioè una parte di noi che controlla la situazione cerca di non farci soffrire e quindi corregge il tiro ma il messaggio arriva comunque anzi secondo Freud chi non sogna o tutte le volte che noi ci svegliamo e diciamo non ho sognato nulla vuol dire che il sogno era talmente in realtà noi sogniamo sempre ma il sogno era talmente spiacevole e talmente doloroso e talmente forse anche scabroso e scandaloso scoprire che tu hai dei desideri illeciti o immorali che proprio il superio non riuscendo a correggere solo un pezzetto ha raso al suolo il sogno e tu ti svegli e non ricordi più niente questo è estremamente affascinante dentro di noi c'è tutto un meccanismo un lavorio di freno da un lato l'istanza della comunicazione dall'altro il freno che mette il bavaglio e facciamo tutto da soli quindi anche psicologicamente ci si può affidare a queste due però però ci sono degli aspetti che sono piuttosto come si può dire in grado di influenzare la nostra conoscenza uno l'abbiamo visto ieri e ciò è il punto di vista ognuno di noi assume un certo punto di vista nel mondo anche geograficamente ma culturalmente ma psicologicamente in base al passato alla tradizione a quello che ha vissuto e uno stesso fatto mi spiego da ognuno di noi viene interpretato comunque con sfumature diverse perché ognuno di noi ne viene da un'esperienza diversa e giudica in un modo diverso e quindi il fatto non ha un valore completamente oggettivo perché noi comunque lo reinterpretiamo c'è un libro bellissimo di Che No famoso lo conoscerete senza altro che si intitola Esercizi di stile è fantastico in cui praticamente si prende un fatto e poi si comincia a capire come questo fatto cambi a seconda della narrazione del punto di vista dello stile che viene utilizzato per narrarlo eccetera e rimani sconvolto e d'altra parte guardate proprio nel banale nel quotidiano andate a chiedere a due che si sono separati o divorziati il motivo per cui è accaduto e vi racconteranno due narrazioni talmente lontane che alla fine c'è da chiedersi se mai hanno vissuto insieme questi due i figli non ci capiscono niente ci dico ma papà dice una cosa con rischi anche psicologici non da poco perché un bambino a un certo punto se la mamma gli dice sempre contro il papà e il papà contro la mamma spesso questa roba succede che cosa accade? che il bambino a un certo punto si dissocia e arriva a dire hanno ragione tutti e due hanno ragione assolutamente tutti e due ma aspetta mamma dice X e papà non X stanno dicendo l'opposto sì ma hanno ragione che è pericolosissimo perché vuol dire non rendersi neanche più conto delle contraddizioni logiche cioè arrivare a sostenere che bianco e nero è la stessa cosa e siamo davanti a un fatto che dovrebbe essere oggettivo che hanno vissuto tutti i due genitori e magari anche i figli nonostante questo noi modifichiamo tutto e lo modifichiamo alla luce delle differenze culturali psicologiche e via di seguito che presentiamo il punto di vista è un problema rispetto all'oggettività della conoscenza ma un altro problema non da poco è quello dell'esistenza materiale delle cose ora non vorrei sconvolgervi troppo ma è un problema non da poco noi siamo convinti che le cose siano fatte di materia ma empiristicamente parlando cioè basandoci sui sensi noi che cosa che esperienza abbiamo delle cose noi delle cose abbiamo sensazioni nel momento in cui dico che qui c'è un bicchiere intanto già sto dicendo una cosa dico sul tavolo c'è un bicchiere in realtà non sto percependo né tavoli né bicchieri perché questi sono concetti io non percepisco bicchiere percepisco freddo liscio lucido no? scuro chiaro e però noi siamo abbiamo imparato che tutta una serie di indicatori semantici messi insieme danno come risultante il concetto corrispondente ieri facevamo l'esempio del limone giallo aspro vale allora io non mangio un limone io non sto sentendo il limone sto sentendo mentre mangio sto sentendo aspro e non vedo un limone ma vedo ovale giallo e già ovale è una costruzione non so se è chiaro una costruzione mentale e va bene ma se non percepisco limoni non percepisco neanche la materia del limone io non so che questo limone che questo bicchiere sia fatto di materia io sento freddo lucido vedo lucido e cose del genere in altre parole come dice Barclay che è un grande filosofo empirista irlandese precantiano no in realtà noi non percepiamo cose percepiamo sempre e solo sensazioni di cose io quello che avverto è la sensazione di freddo ma non il freddo io quello che avverto è la sensazione complessa di bicchiere ma non il bicchiere la materia di cui è composto quindi potremmo fino a prova contraria e se vogliamo essere particolarmente rigidi nel nostro empirismo dire soltanto che l'unica certezza che abbiamo circa il mondo sono le sensazioni che ne riceviamo non il mondo stesso non so se è chiaro noi non percepiamo il mondo o comunque questa fetta di mondo percepiamo riceviamo delle sensazioni questo signore è un genio perché anticipa mentalmente quella che oggi si chiama realtà virtuale con questi pirla che si mettono il casco gli occhiali i guanti se io mi metto i guanti da realtà virtuale ok me li indosso i guanti sono costituiti da tutta una serie di stimolatori elettronici che vanno a stimolare i vari punti della mia mano i vari centri nervosi della mano ok allora se io indosso i guanti e sto così e il computer manda dei segnali agli stimolatori che vengono selezionati opportunamente in modo tale da far sì che io nelle mani senta di avere una palla ma non ho nessuna palla ma ho la sensazione di avere una sfera in mano perché sono andati a toccare i punti che danno la sensazione dello sferico nella mano io percepirò assolutamente lo sferico in assenza di qualsiasi sfericità non so se è chiaro e se fosse così per tutto e se fossimo così signori c'è qualcuno certo che esista qualcosa qui dentro guardate che questo è clamoroso la stessa cosa lo fanno col casco ti piazzano sto casco e ti stimolano i centri i neuroni che a loro interessano nella testa facendo di pensare quello che vorrebbero che tu pensassi la propaganda già ci è arrivata in un certo modo ma questo è il modo perfetto e stimolando solo certi concetti e spegnendone altri ma resta il fatto che non c'è nessuno qui dentro e là fuori che può dimostrare in nessun modo che ciò che esiste esista che ciò che percepisce esista intanto c'è un problema che si chiama solipsismo in virtù del quale non offendetevi ma qui l'unico che esiste sono io nel senso che quando io apro gli occhi sul mondo in realtà lo creo lo produco inconsciamente fichte l'idealismo tedesco ciò che vedo l'ho prodotto inconsciamente quindi voi sareste in questo senso tutta una mia produzione inconscia e ognuno di voi può dire la stessa cosa di me e di tutti gli altri che ti credi perché non può essere per me c'è il piccolo particolare che io dirò sempre e solo che è per me perché io sono soggetto per me e per me voi siete solo oggetti e come tali potreste essere il risultato di una mia produzione e questo è un punto importante perché c'è una relatività di piani divini poi ne parliamo però chiariamoci su un punto l'anima non esiste e lo so che questo oh no ma come non esiste sempre per il solito problema che esistere vuol dire assumere una connotazione spazio-tempo dove è l'anima dove è dove è localizzata ma chi l'ha mai vista no no ma io non sto dicendo che non è dico che non esiste cioè dico quando dicono Dio non esiste o l'anima non esiste hanno ragione perché non esiste nessuna possibilità di collocare spaziottare temporalmente queste cose e quindi viva Dio ammesso che Dio esista no ammesso che Dio sia perché questo è il piano quello dell'essere noi potremo passare il resto della vita a cercare tanto non troveremo mai c'è una bellissima leggetelo c'è un che se non l'avete fatto c'è un libro bellissimo che si chiama Flatlandia ma è un classico scritto da questo Abbott che era un vescovo in realtà che è bellissimo perché spiega è una favola geometrica matematica che racconta dell'esistenza di un mondo piano Flatlandia un mondo a due dimensioni quindi non c'è l'altezza solo lunghezza e larghezza o se volete larghezza e profondità ma solo due dimensioni quindi sono tutte figure piane che interagiscono fra loro è una figura è una figura è tanto più anziana è piena di è più no è tanto più come si può dire è evoluta quanto più ha i lati il problema è che vedendosi tra di loro un triangolo lo vedi tu pentagono vedi un triangolo tu in realtà vedi sempre solo una linea perché è tutto piatto ma vedi il vertice vedi che c'è un punto in cui è più scuro e dici che è quello il triangolo perché c'è un angolo lì capito mi impunta viene qui di punta per esempio oppure ne vedi due dici un quadrato un rombo girato così le donne guarda caso da maschilista qual era questo signore ma è anche divertente erano soltanto segmenti erano al livello basso dell'evoluzione quindi erano soltanto segmenti che avevano un solo lato però dice fanno un male boia perché sono pungenti da matti cioè se ti beccano ti ammazzano di cui saranno anche poche volute ma sono pericolosissime e comunque al di là di questa che è una sciocchezza ma quello che conta è che un giorno la sfera che come tale è Dio perché ha una dimensione in più cioè l'altezza no? cioè una figura solida non più piana che quindi come tale avendo una dimensione in più era divina allora un mondo ha una sola dimensione e vede divino una realtà a due dimensioni il punto vede divino la linea la linea considera divino la sfera o anche solo un cubo diciamo la sfera perché è sempre stato il simbolo della perfezione l'equidistanza di tutti i punti della superficie dal centro un giorno la sfera Dio Dio per il mondo ha due dimensioni perché è tridimensionale e addirittura Dio alla seconda per il mondo monodimensionale dei punti la sfera decise di e questa è la parabola evangelica decise di manifestarsi al mondo bidimensionale al mondo piatto e disse io voglio dimostrare che ci sono che esisto che esisto perché loro non credono in me e io voglio arrivare a far credere che ci sono e quindi che cosa fece la sfera intersecò il piano una sfera che interseca il piano e che cosa accadde? accadde che tutte le figure piane videro una riga non so se è chiaro la sfera interseca il piano diventa una riga perché io vedo solo così e vedo una riga non ho l'altezza per guardare il resto se ti manca una dimensione quello resta articolo di fede la sfera subì lo scacco lo scacco di non potere e guardate questa è di fatto se volete una reinterpretazione matematica per esempio della manifestazione di Dio attraverso Gesù Cristo Gesù viene nel mondo ma è un uomo e per chi non innesca non accende la dimensione della fede e dice quell'uomo era Dio è un uomo come gli altri e finché ci sarà l'umanità ci sarà sempre il dibattito tra chi dice ma era solo un uomo e chi dice io credo che fosse Dio e allora il segmento o il triangolo che vede la sfera che vede la linea ma dice io credo che sia una sfera ha fede ma non la vede la sfera esattamente come chi invece il pentagono che ne so che vede la stessa linea dice ma che cazzo stai dicendo ma era una linea ma smettila ma pianta le stesse sciocchezze ed è bellissimo questo perché questo lascia infinito il percorso di ricerca e mai la certezza in nessuno e questo è il motivo per cui viviamo continuare a scommetterci continuare a cercare no? ecco quindi che noi possiamo dobbiamo renderci conto che la stessa dimensione materiale è una una produzione di fantasia potrebbe essere una produzione di fantasia perché fino a prova contraria ciò che noi percepiamo sono sensazioni io ricevo sensazioni quindi io potrei essere immerso in una realtà virtuale e credere che voi esistiate ma in realtà è che abbiate una materia ma non è che uno dice ma senti che ho la materia toccami e che cosa tocco sensazioni ricevo anche qua mica ricevo materia al di là del solipsismo e quindi del fatto che io potrei essere l'unico esistente tra l'altro non esistente perché io non sono il mio corpo io sono una soggettività all'interno del mio corpo il mio corpo è oggetto a me esattamente come il bicchiere io vedo il ginocchio quindi quello che sono io non lo so perché non sarò mai oggetto a me stesso e quando uno dice l'anima esiste io sono l'anima la risposta unica è dirgli e come lo sai visto che l'anima essendo sempre soggetto non sarà mai oggetto a se stessa dove l'hai vista come la provi l'esistenza dell'anima l'esistenza di te di te stesso come la provi ma pensate quante incertezze se ci ragionassimo fino in fondo dovremmo avere invece che sentirci dei fighi il mio compito è sempre quello di picconare ma è divertente perché uno esce così e dice oddio io mi ricordo i miei alunni che uscivano così no e ridevano stai zitto che tu non esisti andavano a fare l'intervallo ridendo così però io sentivo proprio che gli stavo facendo del bene perché se non altro li facevo muovere è bene e se io fossi o ognuno di voi fosse un microchip chiuso in un cassetto in fondo all'universo nel buio più totale e credesse in questo momento di star vivendo mi viene la pelle d'oca in questo mondo solo perché è tutta una produzione è una roba bestiale ma perché non pensare che possa essere questo è questa cosa cambia lo so però cambia lo spessore il peso che dai alla vita non so se mi spiego beh smetti di tirartela cioè smetti di dire io so perché ok ma se quel granello ha una dimensione fisica effettiva se non altro c'è questa certezza ma se anche quel granello è una produzione inconscia di una realtà che nemmeno a quel livello c'è io mollo un po' le briglie non so come dire cioè mi diverto di più guardate poi io non sono capace io lo dico soprattutto o comunque sto imparando e voglio però è soltanto per spiegare al di là poi dell'essere anche più umili o meno ma è per spiegare quante poche certezze abbiamo addirittura sulle cose base che dovrebbero essere quando dice se tanto mi da tanto se non altro questa bottiglia esiste perché ce l'ho davanti no non ho nessuna prova quindi questo litigare cercare di esercitare la propria cultura dicendo io sono uno che ha studiato cazzo è studiato magari un sacco di menate per decenni basate su cosa questo significa questo è il problema che viene chiamato il problema della esistenza materiale delle cose che parte da Berkeley e poi viene preso da altri studiosi poi c'è un altro problema il problema dell'esistenza continua delle cose e cioè noi siamo venuti qui e crediamo che la nostra casa sia ancora lì dov'è e crediamo che la nostra casa esista per il semplice fatto che noi l'abbiamo vista prima di uscire abbiamo chiuso la porta abbiamo cercato di vedere che le finestre fossero tutte a posto e ce ne siamo andati ma se la nostra casa nel momento stesso in cui ci giriamo piglia e se ne va al mare non lo sappiamo mica e dire che questo bicchiere esiste solo perché ce l'ho davanti ma quando non c'è più anche solo la porta anche solo quello che c'è qui dietro non mi ricordo cos'è perché scarsità di attenzione ma il bellissimo giardino il bosco quindi non solo ciò che è davanti non è certo ma per giunta nel suo non essere più davanti appena giro lo sguardo potrebbe essere che tutte le volte che faccio così la bottiglia ricompare la bottiglia ricompare così e mi prende in giro no? questo è un problema notevole già democrito e quindi siamo agli esordi della storia della filosofia del pensiero umano diceva le proprietà qualitative degli oggetti non sono essenziali sono essenziali soltanto le proprietà quantitative quanto è lungo quanto è prof le proprietà qualitative per esempio blu sono quelle diceva Democrito che l'oggetto assume in presenza del soggetto cioè una cosa è blu solo se la guardi che poi tutto sommato funziona perché il blu è una è una reazione alla luce non è una proprietà dell'oggetto è un suo reagire alla luce quindi il discorso è che ci sono certe proprietà e secondo Democrito quelle qualitative che si producono solo se il soggetto è lì a guardarle mi ricorderò per tutta la vita quando una delle prime volte che ho spiegato in una classe questo un napoletano un ragazzo napoletano alza la mano e dice io ho capito la filosofia è il mio campo eravamo in terza quindi all'inizio ma lui ha già capito che la filosofia era il suo campo e dice ho capito professore è come la luce del frigo è una figata è una figata perché apri ed è accesa poi chiudi e ci vuole veramente la fede per poter essere convinto che sia chiusa e noi genovesi ci passiamo la vita a guardare se effettivamente si spegne perché ti va sulla bolletta ciao Enrico quindi questa è una roba bella cioè il discorso è che mi si accende la luce solo se apro ma che si spegne poi c'è se è fatta male mentre tu già si spegne ma se è fatta molto bene e ha solo a chiusura effettuata se lì dentro ci sia la luce o la un genovese ci perde il sogno prego se c'è qualche qualche tipo che ti fa uno scherzo e ti mette tipo un scotch che quando la api assolutamente come quelli che lo mettono sul citofono e ti fa suonare tutta la notte certo quindi ecco che anche l'aspetto dell'esistenza continua delle cose così come l'aspetto dell'esistenza materiale delle cose sono dogmi dogmi non scienza dogmi allora abbiamo visto come la scienza affidandosi all'induzione non ha nessuna certezza e non potrà averla mai e poi abbiamo visto che comunque basandosi sui fatti i fatti dipendono lo vedevamo anche ieri dalla posizione che assumiamo nell'osservarli ma soprattutto i fatti di per sé non sono fatti perché l'oggetto che noi consideriamo fatto non abbiamo nessuna prova che abbia una consistenza materiale perché riceviamo dai fatti soltanto sensazioni e potremmo quindi ricevere sensazioni in assenza di cose corrispondenti e dunque essere in una sostanziale realtà virtuale tutti inoltre la presenza la presenza stessa dell'oggetto lo rende oggettivo nel momento in cui l'oggetto è presente ma nel momento in cui mi giro l'oggetto potrebbe svanire e ricomparire di sua iniziativa o dell'iniziativa di qualche dio maligno che si diverte alle nostre spalle e perché no perché anche l'idea che dio è buono me la devono spiegare cioè dove è implicito il concetto di dio che sia buono non c'è scritto da nessuna parte e li vedo tutti lì che litigano sono fatto ma è buono è cattivo e ci sarebbe da dire senti prima però dimostrami che sia dio poi ne parliamo se è buono o cattivo perché come dire ma l'unicorno è giallo o bianco sì ma l'unicorno c'è come quella roba là del San Giorgio che è famoso perché ha ucciso il drago è una figata visto che i draghi non sono mai esistiti il fatto che ci sia un santo che è santo perché uccidesse i draghi è divertente cioè dice vabbè però prima partiamo dal drago poi una volta che mi hai dimostrato che esistevano i draghi allora mi dimostri i santi che li uccidono ma insomma noi spesso andiamo a girare intorno agli accidenti delle cose e l'essenza ci manca quindi l'esistenza continua delle cose è di nuovo un qualcosa di assolutamente non dimostrabile perché io ho la certezza solo di ciò che ho davanti e ciò che è già di lato o dietro fine io in questo momento potrei avere dietro di me il nulla totale lo raccontavo stamattina alla signora Maria Serena quando andavo a scuola ancora andavo a scuola per un certo periodo salendo le scale di corsa perché ero sempre in ritardo per arrivare in sala professori a volte incrociavo una ragazza disabile con disabilità psichiche spaventi agitazioni ansia eccetera accompagnata dall'insegnante di sostegno il più delle volte correva abbastanza liscia la cosa lei scendeva anche se con difficoltà la tipa l'aiutava io salivo dicevo ciao e andavo su qualche volta era drammatico perché lei rimaneva inchiodata e non scendeva terrorizzata una volta io ci ho pensato stavo salendo e questo era così e guardava dietro di me col terrore che le si leggeva negli occhi qualcosa dietro di me e c'era il tipo che le diceva non c'è niente ma dai ma smetti ma se non c'è niente ma vedi che non c'è niente e io ho pensato per un attimo inchia se avesse ragione lei e se fossimo noi tutti idioti ci reputiamo sani solo perché siamo i più e cioè la maggior parte di noi non vede le cose che invece ci sono e lei fosse l'unica normale che da sopra la scala stesse dicendo ma siete pazzi ma non avete visto il mostro che avete dietro ecco questo cambiamento di prospettiva è importante anche in questo senso per darci l'idea di quanto poco noi conosciamo di noi stessi e del mondo e di quanto ci affidiamo all'apparenza alla statistica al numero che tutto sommato non conta niente non vale niente rapporto causa-effetto sul rapporto causa-effetto fondiamo la compressione dei fenomeni abbiamo già parlato prima di questo legame che li lega che può essere anche percorso al contrario una prospettiva che non si considera mai anche in senso terapeutico ma il legame causa-effetto è di nuovo un legame che è un articolo di fede stabilire nel momento in cui io dicono gli scettici sono di fronte alla causa vuol dire che l'effetto non sia ancora prodotto e dunque significa che non è causa perché causa solo se ha prodotto l'effetto e nel momento in cui mi trovo invece di fronte all'effetto non è effetto perché non la causa e non avendo la causa davanti perché ho solo l'effetto quello non è un effetto perché non ha una causa e il fatto poi che io dica dunque il cancello è arrugginito e questo è dovuto al fatto che è piovuto e l'acqua lo ha fatto arrugginire è solo perché io collego un fenomeno all'altro ma quante volte facciamo dei legami sbagliati e ci rendiamo poi conto che quello non era dovuto a quella causa che non era quindi causa ma a un'altra e abbiamo passato millenni come vi ho dimostrato rispetto alla teoria dei luoghi naturali a credere che le cose cadessero in base a delle cause che invece adesso sono cose che considerano assolutamente ridicole da Newton in avanti quindi il legame causa-effetto a prescindere dal fatto che o hai sempre solo l'effetto e dunque non avendo la causa quello non è effetto oppure davanti la causa e non essendoci ancora l'effetto quella non è causa a prescindere da questo ogni tentativo di connettere una dimensione all'altra è un azzardo e questo ripropone il concetto che dicevo ieri popperiano la scienza è scienza un sapere è scienza solo se si espone al rischio di essere smentito cioè solo se mi permetti di poter discutere con te e di dire ma io non sono d'accordo cosa che in ambito medico e vaccinista ci è stato completamente precluso cioè tu non puoi discutere assolutamente e devi accettarlo e questo crea un problema nel senso che e poi c'è un altro aspetto di popper che è importante dal punto di vista epistemologico il famoso demarcation criterium cioè il criterio di demarcazione rispetto alla questione della falsificazione e attiene ai limiti dell'induzione di cui vi ho parlato come faccio a sapere che la proprietà P è soddisfatta da tutti gli x per x che va da 0 a infinito beh da 1 diciamo a infinito beh è molto chiaro un loop flauciarno diagramma di flusso start P ok la proprietà il la proprietà P con il punto interrogativo cioè P è soddisfatta comincio con x che vale 1 entra lì dentro P di x è vera? sì loop x a x assegno x più 1 torno su torno su cioè adesso x vale 2 P di x è vera? sì ok esco a x assegno x più 1 3 per P di x con x che vale 3 funziona? sì ok quanto vado avanti? tutta la vita? tutta l'eternità? è logico ecco perché a un certo punto mi fermo e dico senti a x che vale 5.000 basta vuol dire che vale per tutti e questo aspetto del limite dell'induzione è gravissimo perché fa sì che la scienza non sia scienza mentre invece e poi per aggiungere questa geniata la cosa si sblocca col falso nel senso che nel momento in cui io vedo che P vale 24 e il P di x non è soddisfatta esco e ho finito quindi la falsificazione è quella che dirime che distingue lo scientifico dal no e questa è la cosa su cui dovremmo concentrare l'attenzione ecco perché è importante smentire perché per un valore tale per cui e se sono fortunato è abbastanza basso per cui la P non vale io chiuso dico sta P la prendo e la butto nel cesso sto farmaco lo prendo e butto nel cesso perché fortunatamente già al 24esimo caso siamo arrivati a vedere che non funziona è solo che se poi loro giocano di statistiche vanno avanti lo stesso perché dicono vabbè non ha funzionato solo dal 24 al 37 ma gli altri fino a 5.000 hanno funzionato l'indice è sufficientemente basso per dire che il farmaco funziona ma quei 20 che si sono fottuti quelli come andiamo a finire ma resta il fatto che è per P che non vale per P che viene falsificata tra virgolette che il processo si sblocca e arriva a una certezza quindi è la falsificazione che sblocca il processo e dà una una certezza vera laddove la verifica è un mito verificare una proprietà è un una cosa assurda a meno che non sia un numero limitato circoscritto io dico in questa stanza non c'è nessuno che abbia tre occhi ok vero perché io ci metto no ma già cominciare a dire che in questa stanza non c'è nessuno che ha ucciso qualcuno comincia a diventare problematico se poi in questa stanza ci sono cinquemila o cinquantamila o cinque miliardi di persone muoio prima anche solo per una proprietà abbastanza facile da riscontrare no? sì io mi fermerei perché vi ammazzo se no perché vi ho riempito di tante di quelle cose che cioè pensate a questi poveracci che si sono fatti tre di queste sgarruppate cioè ecco come mi odio però se ci sono domande o richieste di supporto psicologico psicofarmaci e sono qui il mio intento era solo come deve fare un filosofo per quello che penso di poter essere o di poter ambire ad essere è il quello di sgretolare le certezze ma perché dal dubbio che viene fuori la ricerca e tutte le volte che io sono sicuro di qualcosa mi sono fermato e quindi questo mettere in dubbio tutto mi fa bene a me personalmente fa bene perché mi rendo conto che allora mi rimetto in moto e quante volte la vita ci aiuta a battere la testa guardate io sto provando sto dimostrando a me stesso sto verificando che tutti i casi che ho giudicato compreso gli errori dei miei genitori soprattutto i casi a me vicini quindi per esempio gli errori dei miei genitori poi me li vivo sulla mia pelle e capisco che per quanto magari potessi aver ragione a giudicare sbagliato quell'atto costava un casino non commetterlo era comunque in una situazione terribile difficilissima ed è molto facile da fuori puntare il dito dire tu hai sbagliato tu hai ragione perché poi quando sei lì dentro d'accordo che la differenza tra ragione e torto magari regga ancora ma ti rendi conto di quanto è umano sbagliare di quanto è difficile e spesso divino non sbagliare e allora ecco che ti riconcigli con tutti ricostruisci quelle relazioni che magari hai perduto per sempre perché ormai sono morti entrambi però dici ok pensate alla alla bambina violentata in casa oppure sì alla bambina che va a cercarsi la violenza da grande pensate alla donna alla bambina che vede la madre picchiata dal padre e che va a cercarsi l'uomo macio che secondo lei è macio se picchia ora è evidente che se fai 2 più 2 ti rendi conto che è sbagliato però tu devi salvarla la tua famiglia cioè devi in qualche maniera non puoi condannarla del tutto dicendo è stato tutto uno schifo e quindi vai a cercare il buono anche nel pessimo non so se mi spiego per rivalutare un ambiente che era marcio corri il rischio di ricostruirlo marcio uguale perché non vuoi ammettere che tuo padre fosse una merda per esempio e ti vai a cercare una merda perché mi piacciono le merde in realtà non ti piacciono per niente quindi quanti errori facciamo nel giudicare ma anche poi nel vivere la nostra vita per ridare ragione a chi ha torto per sentirci non così disgraziati nel nostro passato e via di seguito quanti pasticci facciamo quanto poco sia vera la verità e quanto sia importante continuare a mettere tutto in discussione per crescere